mamma mia che inter mamma mia che inter travolgente c'è una cosa buonasera fratelli e sorelle nerazzurri ma c'è non so non so se avete visto la partita non so se l'avete vista c'è i nerazzurri hanno surclassato per 6 a 2 cioè mica una partita proprio incredibile cioè quelli si stavano avvicinare la 3 a 2 è entrato non mi ricordo chi la 6 a 2 cioè i nerazzurri non so cioè non so se li abbiamo schiacciati questo alla faccia di tutti quelli che dicevano male all'allenatore ai giocatori me compreso me compreso me compreso e che dicevano che abbiamo vinto contro il napoli a culo queste sono prestazioni che cambiano cambia totalmente la stagione oh ah non era l'inter era l'atalanta ah era l'atalanta l'inter a 1 a 0 ah ok sera fratelli nerazzurri allora tempo l'inter 0 a 1 per l'inter 1 a 0 per l'inter col di che età ah mi ero addormentato un attimo dopo i primi 5 minuti e mi sono svegliato alla fine partite finite e ho visto sti nerazzurri che stavano 6 a 2 pensavo pensavo fosse l'inter invece invece vabbè ma dai abbiamo vinto oh e chi vince ha sempre ragione oh allora abbiamo vinto ad empoli però dai già che non abbiamo iniziato in 10 forse il nostro mister sta iniziando a capire che non è più il momento in questo momento di avere Perisic titolare o zombie perché non sta in forma per tanti altri motivi comunque non fa niente e vabbè non che che età abbia fatto la sua super partita nemmeno politano ha fatto una delle sue partite più belle però fa sempre il suo si è vista si è vista gravemente gravemente che sottolineo gravemente l'assenza di di Brozovic che come ho sempre detto per me è l'unico ma veramente l'unico giocatore di cui non possiamo prescindere perché non abbiamo un giocatore in quel ruolo praticamente e Giovanni se non gioca a Gagliardini non so perché non so perché succede questa cosa ma quando non gioca con Gagliardini non non è già non è un fenomeno di suo sarà che c'è un feeling con Gagliardini sarà una pura casualità sarà non so cosa ma non ha nemmeno lui ha tanto brillato insomma la partita loffia loffia fiacca è arrivato questo gol prendiamoci la vittoria che è importantissima se sarebbe venuto un pareggio l'Empoli non avrebbe rubato niente anzi ha fatto anche un bel arrempaggio dopo aver subito il gol quindi cosa dire è vero anche che era la terza partita in una settimana e con la nostra rosa che non è chilometrica ci stava ci stava avere un po' di affanno ora per fortuna è finita è finita abbiamo vinto quindi abbiamo fatto sette punti in in queste tre gare non mi dispiace averne fatti sette ma mi dispiace averne fatti uno col Chievo con tutto il rispetto per il Chievo se avessimo fatto sette con il pareggio col Napoli diciamo sarei stato ma non dico più soddisfatto però un pareggio col Napoli ci sta un pareggio col Chievo no quindi un campionato si perde e si vince anche contro il Chievo contro il Sassuolo contro il Torino contro l'Empoli contro il Bologna e il Frosinone l'Udinese eccetera eccetera quindi ci sta e quindi va bene così e adesso c'è questa lunga sosta io continuo a non capirla questa lunga sosta perché se si deve giocare a Natale per poi stare fermi tre settimane non la capisco proprio in questo punto preferisco la vecchia il vecchio modo dove si giocava il 23 di solito così a memoria poi si rigiocava il 6 gennaio quelle due settimane uno si godeva il Natale si godeva i parenti e tutto quanto e poi ricomincia il campionato così è vero che uno cioè in questi giorni di ferie guarda il calcio guarda la Serie A il campionato la Coppa Italia le Coppe d'Inghilterra insomma chi più ne ha più ne mette il palinzesto televisivo è quanto ricco però è vero anche che adesso che per tre settimane uno non è in ferie la domenica c'è un cazzo da fare proprio diciamola così com'è detto questo e niente volevo dare un una mia opinione su quello che è successo post partita con il Napoli che poi tante cose sono uscite dopo e niente ovviamente mi dissocio mi dissocio totalmente totalmente contro i cori razzisti a Coulibaly assolutamente come facevamo i moralisti quando era con Balotelli e insomma quindi mi dissocio mi viene da dire che ogni volta che succedono queste cose ci sono sempre di mezzo il Napoli o comunque i tifosi del Napoli quindi qua non è una giustificazione assolutamente però forse forse insomma diamo anche a Cesare quel che dice Cesare che ci stanno sempre lì in mezzo non parlo di non parlo di interista a Roma a Torino cioè ce l'hanno sempre contro il Napoli i napoletani beh un motivo c'è gli scontri succedono quando ci stanno il Napoli i napoletani un motivo c'è ora abbiamo fatto veramente schifo come tifosi in quella circostanza ne prendiamo atto ci facciamo le nostre belle partite a porte chiuse ci facciamo tutti a casa probabilmente tutto quest'anno insomma trasferte vietate ai tifosi dell'Inter ma francamente non penso sia questo il modo di risolvere la cosa non è questo perché perché non è questo cioè non è che chiudendo una chiudi solo la curva per tutto l'anno cioè che ci entrano tutti gli altri che ci entra la trasferta che poi il nostro pubblico è sempre stato uno dei più non dico signori però insomma è stato sempre un pubblico molto rispettabile insomma non sono forse a parte a memoria ricordo il motorino dagli spalti ma ok ma in linea di massima i tifosi dell'Inter sono sempre i tifosi abbastanza tranquilli eppure è successo quindi Kulibaly onore a te la tua pelle a tutto quello che rappresenti sei un giocatore mostruoso lo dico ve lo ve lo sottolineo e niente cerchiamo di migliorare tutti da De Laurentiis che ha acceso una bella amiccia fino a a quello che porta il bambino allo stadio per la prima volta il figlio miglioriamo tutti sempre forza Inter e niente ci sentiamo l'anno prossimo ciao agliù